Stiamo qui con Tomas Irce, diputato umanista del Cile. Abbiamo una domanda rispetto a quello che stanno passando in Europa. In Europa stiamo vedendo che stanno perdendo molta forza, desaparecendo la socialdemocracia come forza politica. E al stesso tempo stanno aparecendo altre, perché si crea un vazio. Non so se vuoi commentare questa situazione, come ti pare? La socialdemocracia sta desaparecendo in Europa e sta desaparecendo in America Latina. E per una ragione molto semplice, tra una mala copia o la original, la gente preferisce la original. E come la socialdemocracia ha terminato haciendolo il cammino, pavimentandolo il cammino, diciamo, in Chile, a la derecha, mantenendo il modello neoliberal e incluso profundizzandolo, con algunos retoques, humanizzandolo un poco. Bueno, in definitiva la gente ha detto, e quindi ha terminato votando a la derecha. E altri hanno lasciato la socialdemocracia perché buscano una alternativa di cambio struttural profondo. oggi non si può pretendere migliorare il modello, humanizzare il modello, retocare il modello. O stai con questo modello neoliberal e individualista, o stai con un cambio struttural e profondo in la società che garantisce diretti a le persone. La socialdemocracia non haciano nello uno nello altro. Beh, noi, per lo meno, lo humanista e con altre organizazioni, stiamo per fare lo che chiamiamo una rivoluzione, nel buon sentido della parola. è cambiare le strutture sociali, per che la cittadinanza abbia diretti e vivi dignamente. Per una forza politica che, in un momento, intende che sola non può produire un cambio social importante, non può. E tiene che, di qualche forma, lavorare con altri. Sobre quale principio tiene che mettere in lavorare con altri, diciamo? Si uno trabaja con altri, è perché assume che sono differenti a uno. Per lo tanto, hai che trovare i punti di convergencia. Noi in Chile lavoriamo con organizazioni che proveniano di mondi molto diversi, marxisti, feministi, ecologisti, liberali e, per certo, humanisti. Coincidiamo in creare un paese più justi, un paese più democratico, un paese con più diretti per tutti, un paese meno violento, un paese che desconcentra il poder, un paese che si genera una constituzione democràtica. Esos hanno stato un punto in cui tutti convergiamo e manteniamo la diversità in molti altri aspecti della società. Cosa può vincere meglio la attività del politico con la sua respectiva base social, diciamo, in termini di responsabilità politica? Credo che, effettivamente, è molto facile, come politico, desvincularti della base social del territorio. Lo che ho visto in questi due mesi è che il Parlamento è come un microclima, è come una capsula, ti desconecta, ti aisla e puoi quedarti entretendo di per vita. Per questo credo che è importante mantenere il cable a terra e entender che nostra tarea fondamentale è nel territorio, è il fortalezione della organizazione nel territorio, è il vincolo e il lavoro con i movimenti sociali. non è reemplazare i movimenti sociali, è ponere al servizio dei movimenti sociali, che è un'altra mirata, che è un'altra concezione. Cosa può essere utile a questi movimenti sociali in la tarea parlamentaria? Cosa può impulsare progetti di lei che vengano dal movimento social? Cosa può aiutare a fortalecer su organizazione? Cosa può collaborare con loro per abri le porte ante i poteri del Estado? Esa è la tarea. Cosa cosa, francamente, non ha nessun sentido la tarea parlamentaria che non sia lavorare nel territorio con i movimenti. In primo, sei un'humanista. Hace poco sei diputato humanista. Hace poco, diciamo. E ora, da questa perspectiva, ti sembra che è possibile un cambio come diputato? De vero è possibile producire un cambio social importante? Io credo che non è possibile producire un cambio come diputato. Io credo che è possibile contribuire come diputato a un progetto mayor. Il progetto è di transformazione sociale. Per lo tanto, è importante tener anche gente allì dove se construye le leggi, allì dove se può accordare con altri, allì dove se può presionare i governi, allì dove se può influire in i municipi. Quindi sì, credo che ha fatto molto senso il lavoro come diputato. Lleviamo, oggi, due mesi, e ha sido molto intenso. Abbiamo presentato un progetto di legale, per esempio, per che la cittadinanza può mettere urgenza di legale, che dorme per anni nel Parlamento. Abbiamo oficato al governo in molti temi, exigendosi il informe a la cittadinanza e la comunità sobre distintas situazioni che la afectano. Abbiamo mandato indicazioni a più di 10 progetti di legale che stanno affettando la salute, la educazione, la vivienda, il lavoro, la previsione. Quindi sì, io credo che si può fare cose alcune delle cose che stanno diventando in lei, anche quando sappiamo che va a demorare abbastanza più. Però lo più importante, insisto, è come contribuire con i movimenti sociali, come contribuire a organizarsi in una società che fortalece e proclama il individualismo, la fragmentazione, il preoccuparsi con lo suo. Quindi è una tarea mixta nel Parlamento e nei territori della comunità. Grazie.